Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale e il nostro nuovo video, come al solito io sono Gabri, io Birillo, oggi vi andremo a far rivedere due nuovi liquidi da guancia, vai Birillo, sono due liquidi eccezionali, sono della collezione, uno è il Grand Master che ha il suo numero 109, sopra c'è scritto la sua, quando è stato l'otto che è stato fatto, è il numero 015 bottiglia 500, su 500, la numero 15, l'otto numero 109, questo qua si chiama Grand Master che al suo interno ha burro d'alachidi e banana matura, ora andiamo a fare la prova di svapo e tenere qualche conclusione, 50 e 50, americano, un prodotto da California, tanta roba, andremo a provare sulla Pico Squeeze, è l'Origin, è l'Origin, è l'Origin col beccuccio di Gandalf, e a fare qualche conclusione su questo liquido, che a parere di tante persone è spettacolare, vogliamo adrippare un pochino perché dentro la boccita è vuota, temperatura, questa è l'Origin, e questo è 4€ fin qualquer箱, ma quando in un óleo spegnado ci si sente bene di caramello che piuva, che torna un pochino come? caramello e banana, la banana però mi rimane in fondo io sento in fondo subito no burro da lachi si burro da lachi scusi poi noccioline e tostate la cremina di noccioline e poi la banana all'ultimo la dolcezza della banana buona, la guancia non smaga, non è forte come quei banana che mi piace bilanciato bene buon prodotto a zero nicotina ricordiamolo me l'hanno donato mio fratello per fare queste recensioni io si do tre mezzi sono buoni da guancia essendo anche poi un prodotto da polizioni assolutamente sono mezzo a tutto buono, ma ora andiamo a fare la prova del castellong che al suo interno ha cocco, mandorle tostate vaniglia e zucchero di canna caramellato una squisitezza trovabile vai gabry guardi qua sempre da collezione andiamo a vedere che numero è questo questo è il numero l'868 e il numero 15 numero 15 anche questo su 500 sempre la 30 ml la boccetta piccolina zero nicotina zero nicotina andiamo a provare anche se da guancia un pochino di nicotina ce la buttano noi siamo amanti della zero nicotina come ti sembra? buono cosa senti subito? subito il cocco e poi sento il mandorle buono sembra quella quell'olio che ti dà con il mare è vero buono tipo un biscottato valigliato al coco con il mandorle buonissimo buonissimo 8 e mezzo 9 anche per questo per mettere si gatti 8 e mezzo 9 se lo merita più di questo assolutamente un'ottima miscelazione di questi è un po' più spinto si sente un po' più buonissimo lo consigliamo se lo trovate su qualche sito come riuscite compratelo perché sono veramente buone veramente buone questa linea è veramente buona dalla taverna dello svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e su facebook la taverna dello svapo veniteci a trovare vi aspettiamo ciao un bacio